Con la rinascita di Forza Italia e l'azzeramento del PDL, così come annunciato dal Premier Berlusconi, i stravolgimenti si attendono anche a Salerno. Verranno infatti azzerate le cariche e gli organigrammi e si ripartirà da capo nuove idee, nuovi progetti e soprattutto nuovi coinvolgimenti, convolti nuovi della società civile prestati alla politica, quegli imprenditori che per l'elettorato di centrodestra rappresentano il valore aggiunto. Tutte le nomine e gli incarichi fino ad oggi distribuiti all'interno del PDL non avranno alcun valore. Per volere dello stesso Berlusconi ci sarà un nuovo partito, una nuova classe dirigente e pertanto una nuova organizzazione. Quegli incarichi di natura politica che gli attuali vertici del Popolo della Libertà avevano affidato negli ultimi mesi su tutto il territorio salernitano sono tutti congelati. L'organizzazione e la gestione del partito potrebbe essere trasferita a manager del mondo imprenditoriale locale e da Salerno i nomi sono essenzialmente due, quello dell'imprenditore Dile Vincenzo Russo che di recente si è aggiudicato un'importante gara per l'Università Normale di Pisa e quello di Matteo Cortese Delfino in città dell'ex ministro Mara Carfagna. L'impressione è che da oggi alla metà di luglio l'organizzazione del partito potrà essere letteralmente rivoluzionata e questo riguarda anche la guida provinciale del movimento che stanno alle voci che arrivano da Roma e da Napoli potrebbe subire un cambio della guardia collegato anche ai nuovi vertici nazionali di Forza Italia. Alla riorganizzazione è stato infatti demandato anche l'ex presidente del senato Renato Schifani al quale Berlusconi ha affidato il compito di anticipare la trasformazione del partito e Schifani in provincia di Salerno ha come riferimento il senatore Giuseppe Esposito già vicepresidente del Copasir potrebbe essere dunque affidato ad Esposito il compito di riorganizzare sul territorio il partito situazione che comporterebbe l'opposizione dell'attuale commissario provinciale Mara Carfagna e dei suoi seguaci. Per bilanciare alla Carfagna potrebbe essere affidato però un ruolo importante nel nuovo direttivo nazionale di Forza Italia.